Maratea si conferma città del cinema, sono sempre di più le produzioni che scelgono la bella cittadina tirrenica come sfondo per le loro storie che scorreranno poi sul piccolo e sul grande schermo. Sono da poco terminate le riprese della serie tv targata Fox dal titolo Trust che andrà in onda probabilmente nel 2018 e che ha portato a Maratea un cast hollywoodiano dal regista Danny Boyle, premio Oscar per il film The Millionaire, all'attrice pluripremiata dall'Academy Ilaris Wonk. La collina di San Biagio è stata scelta per la seconda parte delle riprese girate a Maratea e per l'occasione è stata completamente innevata creando un paesaggio suggestivo in grado di riprodurre sullo schermo le curve della Salerno-Reggio Calabria. Tutto questo perché Trust, ambientato nel 1973, racconta la storia di John Paul Ghetti III, erede dell'impero petrolifero Ghetti, rapito dall'Andrangheta a Roma e rilasciato proprio sulla vecchia A3. Set blindatissimo con la security molto attenta ad eventuali intrusi e la chiusura completa dell'accesso al santuario di San Biagio fino alla giornata di sabato, sebbene le riprese siano terminate giovedì. Del supercast che annovera tra l'altro Donald Sutherland e Brandon Fraser, a Maratea è stata presente la Swonk che nella serie interpreta la madre del rampollo rapito. Le riprese che sono state effettuate anche a Dorso Marso sono frutto dell'accordo tra la Lucana Film Commission e la Film Commission Calabrese, che hanno dato vita ad una proficua collaborazione con il progetto Luca, dedicato ai film da girare tra le due regioni. Ma Maratea in questi giorni è stata il set anche di un altro film dal titolo L'Eroe, quella che siamo riusciti a carpire è una scena girata all'interno del municipio di Maratea. La pellicola, prodotta dalla Mescalito Film e dalla Green Film, è vincitrice del bando della Lucana Film Commission, che ha permesso di attirare in Basilicata un noir accattivante firmato dall'emergente regista Cristiano Anania. Il giovane filmmaker è una vecchia conoscenza del Villamare Film Festival, dove all'ultima edizione ha vinto il premio per la migliore fotografia con il corto Respira. L'eroe, che ha visto la troupe impegnata a Maratea per tre settimane, è il suo primo lungometraggio. Di gran pregio il cast che annovera tra i protagonisti, Salvatore Sposito, il celebre Jenny Savastano di Gomorra e Cristina Donadio, di casa a Maratea e anche lei ospite all'ultima edizione del Villamare Film Festival. Le riprese si concluderanno tra Roma e Napoli, Maratea loro pari grazie all'attenzione degli enti competenti e ormai proiettata nel firmamento cinematografico.